Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale, oggi presentiamo un interessante saggio di Davide Chiolero dal titolo Il bestiario del tresor di Brunetto Latini, appena pubblicato dall'edizione Il cerchio e io come mia abitudine non rubo altro tempo al nostro ospite perché voglio sentire subito cosa ci racconta del tresor di Brunetto Latini che è un'opera importantissima per tutti gli appassionati di Medioevo, quindi a te la parola Davide, prego. Grazie Maurizio, anzitutto ti rinnovo il ringraziamento per l'invito a parlare appunto sul canale d'Italia Medievale, per me è un piacere, un onore. Vi volevo dire un pochino anche come nasce questo libro perché di Brunetto Latini ne hanno parlato tantissimi autori, se ne parla parecchio anche perché viene detto che si ipotizza possa essere stato il maestro di Dante, anzi Dante stesso nella Divina Commedia lo identifica come suo mentore e tra l'altro Dante stesso cita il tesoro nella Divina Commedia che è l'opera più importante di Brunetto Latini. In realtà nasce un po' per caso perché ero a un corso di storia della cultura medievale tenuto dal professor Marino Zabbia dell'Università di Listo di Torino e stavamo analizzando diverse opere dal De Arte Venandi come Avibus di Federico II così per caso eravamo arrivati ad analizzare anche il tesoro appunto di Brunetto Latini e il professore aveva fatto quasi un accenno, una battuta, dice tra l'altro nel tesoro c'è anche un bestiario e un argomento di ricerca interessante e da lì io non avevo ancora molte idee per scrivere una tesi di laurea, ho detto ma scriviamo una tesi di laurea sul tesoro, sul bestiario del tesoro di Brunetto Latini e alla fine effettivamente ho scritto una tesi di laurea successivamente alla discussione ho poi modificato il testo ampliandolo e l'ho reso pubblicabile appunto con la casa editrice Il Cerchio e tra l'altro la mia seconda pubblicazione, la prima sempre è stata con loro, anche se all'argomento non c'entrava assolutamente nulla, era sulla ritualità funebre dei vichinghi. Il libro si presenta così, la copertina non l'ho scelta io però è molto interessante, non so se la vedete, ecco qua, una bellissima miniatura che come vedete rappresenta un cavaliere che ha tra le sue mani un oggetto tondo, in braccio piccolo ha un animale e poi c'è questo animale più grosso, scuro, che sembra essere una pantera potremmo dire e io ho provato a fare questo gioco, quando è arrivato il libro ho fatto vedere la copertina a diversi amici e ho chiesto ma secondo voi che animale è questo qui? E tutti mi dicono è una pantera oppure mi dicevano è un ghepardo però di quelli neri e io dico no 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 è una tigre. Perché? Perché effettivamente della tigre, per dire, questo solo per introdurvi l'opera, nei bestiari medievali della tigre non viene detto che abbia appunto il manto tigrato, questa cosa non viene assolutamente detta, viene detto invece che sia un animale che vive, proviene dall'Ircania, vive nell'Ircania quindi una regione molto est e questo animale è molto prezioso, infatti i cuccioli di tigre venivano cacciati, venivano rapiti, solo che le madri erano estremamente veloci e avrebbero raggiunto il cavaliere. Il cavaliere allora lasciava dietro di sé cadere degli specchi e la tigre ogni volta che incontrava uno specchio, pensando che l'immagine riflessa nello specchio fosse il suo cucciolo, gli dava delle zampate finché non girava lo specchio, allora continuava l'inseguimento in questa maniera, però si attardava di volta in volta e alla fine il cavaliere riusciva a scappare portando con sé il proprio piccolo, cioè il piccolo della tigre. Questo per dire che la cultura medievale è una cultura a tutto tondo, questo è un libro di cultura medievale fondamentalmente, storia della cultura e Brunetto stesso ci informa di questa cosa qua. Brunetto ci dice il perché scrive il Tresor e dice che il Tresor tratta sommariamente, cito direttamente dal Tresor, cito la traduzione in italiano, se Maurizio lo ritieni opportuno posso anche leggere quella in francese antico, ma non mi sembra il caso, vado un po' più veloce, tratta sommariamente del principio del mondo, dell'antichità delle vecchie storie, della composizione del mondo e della natura di tutte le cose, e ciò pertiene alla prima scienza della filosofia, cioè la teorica, e così come senza denaro non ci sarebbe alcuna mediazione fra le opere degli uomini che regolasse gli uni nei confronti degli altri, similmente nessuno può conoscere pienamente le altre cose se non conosce questa prima parte del libro. Perché fondamentalmente il Tresor è diviso in tre libri, il primo libro che è paragonato appunto ai denari contanti, quelli che servono, quelli che servono alla base di tutto il re, sono alla base di tutto. E il primo libro è di fatto un'opera enciclopedica, anzi alcuni ritengono che sia la prima opera enciclopedica in volgare. Il secondo libro che compone il Tresor invece è un'analisi dei vizi e delle virtù, mentre nel terzo libro viene fondamentalmente, è riportato una sorta di trattato di retorica che si basa per lo più sulle opere di Aristotele, di Platone, di Cicerone, e di politica. Ecco, la finalità del Tresor qual è? Brunetto stesso lo dice nella sua opera. La finalità del Tresor è fondamentalmente quella di essere un trattato per l'uomo politico del XIII secolo, il podestà in particolare. Brunetto è a lui che si rivolge, Brunetto era un politico, era un politico fiorentino, un notaio, che ebbe un ruolo fondamentale nella politica fiorentina degli anni 50, fino agli anni 90 di Firenze, ha vissuto parecchi anni. Noi non sappiamo esattamente quando sia nato, si presume intorno al 1220, sappiamo che divenne notaio nel 1254. Quando era di ritorno da una missione in Spagna, appunto era sulla via di ritorno verso la Francia, avvenne la battaglia di Montaperti nel 1260 e questo ha costretto Brunetto all'esilio, esilio volontario, in Francia e lui soggiornò parecchio tempo a Montpellier, a Parigi. Qui probabilmente trovo numerose opere tramite le quali poi scrivere il Tresor. Lui sappiamo che si basa, questo diciamo è stato dimostrato sia da Squillacciotti, che è uno dei più importanti studiosi dell'opera di Brunetto, sia da Ribemont, che è uno studioso francese, ha utilizzato tantissimo le opere di Plinio, piuttosto che di Solino, Esidero di Siviglia. Durante appunto il suo esilio in Francia lui scrive Il Tresor e Il Tesoretto e Il Tresor vuole essere appunto un'analisi, o meglio un trattato, di politica. Dicevamo Brunetto divide la sua opera fondamentalmente in tre libri. Nel primo un'ampia parte dedicata agli animali si forma un vero e proprio bestiario, anche se è un bestiario un po' particolare, perché non ci dobbiamo aspettare che sia un bestiario allegorico come la maggior parte dei bestiari medievali. Brunetto ripete numerose volte i principi di brevità del Tresor. Dice che si sarebbe potuto trattare sommariamente di tantissime cose, però non ci sarebbe stato lo spazio per farlo, perché sennò il suo Tresor sarebbe diventato un'opera troppo lunga. Lui dice che appunto la sua opera è dedicata al Podestà e deve essere un'opera breve, un'opera utile, uno strumento. Lui divide la spiegazione dei diversi animali fondamentalmente in quattro parti. I pesci, che è la prima parte, i rettili o meglio i serpenti, nella quale poi sono accomunati moltissimi rettili, gli uccelli e le bestie vere e proprie, i quadrupedi, quelli che noi potremmo chiamare quadrupedi. Però questa suddivisione che è tipica dei bestiari medievali è un po' particolare, perché nei pesci ci sono animali che noi non consideriamo assolutamente pesci. Ci sono animali tipo il coccodrillo o l'ippopotamo. Sappiamo che l'ippopotamo è un mammifero, il coccodrillo è un rettile. Eppure, dato che vivono in acqua, sono associati ai pesci e ci sono anche tanti animali immaginari, per esempio le sirene. All'interno dei rettili noi troviamo il drago, per esempio, oltre a tanti serpenti particolari, il basilisco, tutti animali che hanno quasi delle radici mitologiche. All'interno degli uccelli, invece, troviamo già degli animali che sono più vicini a noi. Questo perché Brunetto utilizza per la fonte, per la parte degli uccelli, una fonte particolare che è il Delzauzel Cassador di Dodd de Prada, che è fondamentalmente un trattato di falconeria del dodicesimo secolo. E Brunetto di fatto lo prende e lo traduce in lingua d'oil. Delzauzel Cassador è in lingua doc, lui lo riporta paro paro. Mentre invece nelle bestie, quindi quelli che dovrebbero essere considerati quadrupedi per la maggior parte di mammiferi, diciamo, ne troviamo le formiche, per dire, perché sono associati appunto ai quadrupedi. Mentre negli uccelli, ad esempio, ci sono le api, le vespe, i calabroni, perché volano come gli uccelli. Quindi Brunetto rispetta questa partizione tipica dei bestieri medievali e che viene tra l'altro rilevata anche da Pastorò nel suo libro molto bello dedicato appunto ai bestiari nel Medioevo. Tuttavia Brunetto non riporta mai nella sua opera l'allegoria, che è questa caratteristica che hanno i bestiari. I bestiari fondamentalmente derivano dal fisiologo. Quindi la natura delle bestie, ossia i loro comportamenti, determinati atteggiamenti rispetto ad alcune cose, vengono associati a un messaggio morale spesso di matrice cristiana. Brunetto questo messaggio morale non lo riporta quasi mai. Lui riporta la natura delle bestie. Tuttavia ritiene fondamentale appunto, c'è questa sorta di distacco dal forte messaggio cristologico tipico del fisiologo e di tutti i bestiari che sono derivati da lui, c'è una sorta di distacco da questo stile che è tipico delle enciclopedie. Le enciclopedie riportavano i saperi senza dare toni morali a questi saperi. E lui ritiene che questi siano, come dicevo all'inizio, i denari contanti, siano alle basi del sapere dell'uomo medievale. Crea un'opera di fatto che non vuole essere un'opera universitaria, un'opera dedicata solo ai dotti, è un'opera che è uno strumento utile all'uomo di politica per fare politica. Lui riporta quello che erano le conoscenze base della cultura medievale. Un uomo medievale queste cose le sapeva, le conosceva e ritenevano che animali come la tigre, come l'abbiamo vista, quindi la natura di alcuni animali realmente esistenti, una natura assolutamente immaginaria, in realtà fosse reale. O addirittura che animali che sappiamo non essere reali, invece lo fossero il drago, per esempio. Gli uomini del medioevo ritenevano che i draghi esistessero realmente, non ne avevano mai visti, però ritenevano che esistessero realmente. Alle volte succedeva che animali che non si vedevano mai poteva capitare che si vedessero. Pensiamo per esempio all'elefante, sappiamo che Federico II aveva un elefante nel suo serraglio. Alle volte poteva capitare che gli uomini del medioevo vedessero questi animali esotici e come vedevano questi animali esotici potevano pensare che anche un drago potesse esistere. O se non un drago una sirena, per esempio. L'anfisbena, questo serpente a due teste che per riuscire ad andare avanti deve quasi muoversi in circolo. Quindi fondamentalmente è questa l'opera di Brunetto, un'opera di cultura, e io ne analizzo il bestiario in questo libro. E nel libro, io fondamentalmente ho diviso il libro in quattro grandi capitoli, facciamo cinque, cinque grandi capitoli. Uno è dedicato ai pesci, uno ai serpenti, uno agli uccelli e uno alle besti. Ho, diciamo, ritenuto fondamentale rispettare quella suddivisione che Brunetto ha voluto. L'ultimo capitolo, invece, l'ho dedicato ai riferimenti agli animali sempre nel Tresor, però fuori dal bestiario, oppure in altre opere, tipo Il tesoretto. Perché ho voluto fare questo? Perché, secondo me, è fondamentale per dimostrare l'utilità effettiva che Brunetto riteneva avere il suo libro. Se in particolare noi andiamo a vedere il libro secondo, quello dei vizi e delle virtù, lui per spiegare i vizi e le virtù Brunetto utilizza tantissimo gli esempi di animali, ma ne riporta veramente tantissimi. Vi faccio un esempio, ve lo leggo proprio solo così. In alcuni casi l'autore sembra citare se stesso, come viene al capitolo 60, nel quale viene insegnato a essere previdenti verso le belle e dolce parole degli adulatori. Il maestro dice, per questo ognuno, qua cito dal Tresor, per questo ognuno deve essere previdente e guardarsi dalle false parole e dalle adulazioni che ingannano con dolcezza, come il dolce suono del flauto che inganna gli uccelli finché non sono catturati. Ecco, questa può sembrare una citazione di poco conto, però queste citazioni di poco conto all'interno del secondo libro sono tantissime, ma veramente tantissime. E anche nel terzo libro, nella parte dedicata alla retorica, sono tantissime. E quindi di fatto dimostra la citazione che è all'inizio del libro, che io ho voluto mettere lì non a caso, se poi qualcuno di voi lo volesse acquistare la potrà vedere. La citazione, io l'ho trovata bellissima come idea, è una citazione tratta da Pasteurot, i bestieri nel Medioevo. Nel Medioevo l'animale è onnipresente, sembra proprio che nel mondo occidentale nessun'altra epoca l'abbia tanto e così intensamente pensato, raccontato, rappresentato. Ed effettivamente è così. E questo libro, appunto il Tresor, lo dimostra. Dimostra che l'animale è onnipresente nella cultura medievale. È onnipresente e fa parte della cultura medievale, è considerato come un fondamento, uno dei pilastri saldi delle basi culturali dell'uomo medievale, in particolare dell'uomo politico, che deve saper fare retorica, deve sfruttare gli animali, le loro nature, i loro comportamenti, anche per fare retorica. Esattamente come nei bestieri medievali sono sfruttate per fare allegoria, noi qua vediamo un passaggio ulteriore, vediamo un'evoluzione. In questo periodo qua, in cui si sviluppa una politica fondamentalmente borghese, vediamo come i borghesi fanno propria l'idea del messaggio allegorico della natura delle bestie e la utilizzano per fare retorica. E addirittura Brunetto ci dà un esempio che è incredibile, è veramente pazzesco. Nel terzo libro, sempre parlando dell'uso che si poteva fare degli animali. Brunetto ci dice come dovrebbe porsi un podestà. Un podestà che sta preparando il suo comune, il comune che sta gestendo per entrare in guerra. Deve fare un discorso fondamentalmente, il podestà, un discorso al comune, ai cittadini e in particolare all'esercito del comune. Ma si guardi bene dal pronunciare parole prive di energia, anzi, atteggi il volto al corruccio e all'ira, l'aspetto terribile, la voce minacciosa e il cavallo nitrisca e colpisca con gli zoccoli il suolo e faccia in modo che molte volte prima della fine del discorso si levino grida e rumore tra i cittadini come se fossero in battaglia. Questa secondo me è una citazione bellissima. Ci dice come dovrebbe comportarsi il cavallo, il podestà cosa dovrebbe far fare al cavallo. Deve nitrire perché il cavallo va a rafforzare quello che è il discorso del podestà. Un podestà su un cavallo fermo, un cavallo che non sembra fremere per andare in battaglia, non incita così bene la gente. Invece il podestà dovrebbe scegliere un cavallo agitato, un cavallo che agiti la folla e che seguo anche lui il suo discorso. Questo è veramente pazzesco. Al di là di questo l'opera può essere letta in maniera, cioè il libro che ho scritto può essere letta in maniera abbastanza piacevole. Un mio amico al quale l'ho dato per esempio mi ha mandato un messaggio su whatsapp e mi ha scritto adesso so perché il coccodrillo piange. In realtà Brunetto non ci dice perché il coccodrillo piange ma io fondamentalmente ho fatto un lavoro di analisi del tesoro, della parte dedicata agli animali, e sono andato a scoprire tutte le fonti che ha utilizzato Brunetto. Per esempio del coccodrillo ci dice questo, il coccodrillo è un animale con quattro piedi e di colore giallo. E già qua dovremmo meravigliarci perché noi tutti sappiamo che non esistono coccodrilli gialli. Perché ci dice che è giallo? Perché una delle sue fonti, l'etimologia di Isidoro di Siviglia, collega il nome coccodrillo a croceus, ossia lo zafferano. E quindi dice quindi è giallo croceus, quindi deriva da quello, quindi color zafferano, invece no. Infatti nelle miniature tutti i bestiari ci dicono che il coccodrillo è giallo, però nelle miniature è quasi sempre verde. nasce nel fiume Nilo, è grande più di venti piedi e armato di grandi denti e di grandissime unghie, e la sua pelle è così dura che non avvertirà affatto colpo di pietra. E sappiate che non ha per niente lingua, ed è il solo animale al mondo che muove la mascella superiore e tiene ferma quella inferiore. Ecco, tutte queste informazioni fondamentalmente derivano da Isidoro di Siviglia, dal Debestis di Ugo di San Vittore. Derivano, per esempio, dopo ci dice anche che il coccodrillo se sopraffa l'uomo se lo mangia piangendo, le famose lacrime di coccodrillo. Ecco, qua non lo sa quasi nessuno, ma questa cosa deriva da Asterio di Amasea. Asterio era vescovo di Amasea, uno dei padri della chiesa, era vissuto tra il 335 e il primo quarto del quinto secolo. Lui ha un'omelia nella quale spiega la sentenza lacrime di coccodrillo. Lui fondamentalmente fa un grandissimo compendio, Brunetto, un compendio di tante opere diverse. Le più importanti sono Plinio, sono appunto il Collectania Rerum di Solino e la Naturalis Historia di Plinio. E ci sono tantissimi mitopos letterari. Quindi, veramente, attinge da tante fonti diverse. Bestiari che riportano queste cose, oppure opere, diciamo, dirette. Questo noi non possiamo saperlo, perché tanti bestiari ci riportano esattamente, per esempio, citano parola per parola l'etimologia di Isidoro di Siviglia. Noi non sappiamo esattamente, Brunetto, che cosa avesse a disposizione. Sappiamo che aveva un corpus di testi e ha attinto a quelli. Perché scrivere e pubblicare un libro di questo tipo? Anzitutto perché, secondo me, il mondo dei bestiari medievali ha ancora tantissime cose da regalare. Negli ultimi anni, tra l'altro, c'è stata una, diciamo, riscoperta di questo genere letterario, con tantissime pubblicazioni. Una delle più importanti della compianta Chiara Frugoni, tra l'altro, ha scritto un libro molto, molto interessante, che ha rivoluzionato anche un po' il modo di vedere e di interpretare quelli che erano i bestiari medievali. E poi perché, essendo un'opera che compendia, che vuole essere un grande riassunto di tutti i saperi del mondo, secondo me può essere un libro abbastanza interessante, proprio perché manca tutta la parte dedicata all'allegoria, alla spiegazione in chiave cristologica della natura delle bestie. Quindi è un libro anche di più facile fruizione, più facilmente fruibile dal lettore. Per esempio, relativamente al castoro, per dire. Nel capitolo seguente, il bestiario del Tresor descrive brevemente il castoro, chiamato anche cane pontico, poiché vive nei pressi del Mar Nero, anticamente Mare del Ponto. La natura ha insegnato al castoro la ragione della caccia che lo perseguita e, per questo motivo, si trancia gli organi genitali con i grandi denti dei quali è dotato, salvandosi. Se sarà nuovamente braccato dai cacciatori, aprirà le zampe mostrando loro che non ha più i testicoli per i quali lo stanno cacciando. E qua cito direttamente il Tresor. I suoi testicoli sono molto caldi e utili in medicina, per cui i contadini lo inseguono per averli. Ma la natura, che insegna ciascuno le proprie caratteristiche, ha rivaliato il loro il motivo preciso per cui gli uomini li cacciano. Perciò, quando si accorge che non se ne può andare, da se stesso si trancia la borsa dei testicoli con i denti e la getta davanti ai cacciatori. E così riscatta il proprio corpo con la sua parte migliore. E da l'ora in avanti, se viene cacciato, scopre le cosce e mostra con evidenza che è privo di testicoli. Ecco, questo è riportato da Isidoro. Il fisiologo e i bestiari ovviamente ne parlano tantissimo, facendo riferimento a quello che era il castoreum, che era effettivamente una spezia utilizzata, era una spezia ottenuta da delle ghiandole di alcune varietà di castoro. Non erano propriamente i testicoli, erano delle ghiandole. Ovviamente non è vero che il castoro, se viene cacciato, si trancia i testicoli coi denti. È una visione allegorica e lui non la riporta. Se no, il bestiario sarebbe stato molto più ampio. Se noi facciamo un confronto, per esempio, con i bestiari Aberdeen o Ashmole, non dice così poco del castoro. Ci sono pagine e pagine solo dedicate alle allegorie. Quindi, anzitutto, è un libro un po' più fruibile rispetto a tanti altri che invece ci parlano diffusamente delle allegorie. In secondo luogo, le analisi fatte sulle fonti di questa parte del libro, per esempio, da Ribemont. Lo studioso francese, per carità, i suoi studi sono stati fondamentali, però ha tralasciato alcune cose. Secondo me si potrebbe ancora dire tanto e diffusamente anche del resto del primo libro del Tresor, che è molto interessante perché parla della genesi del mondo, fondamentalmente, e della storia del mondo, praticamente dall'Antico Testamento fino alla battaglia di Montaperti. Poi, veramente, ci sono indicazioni, per esempio, come scavare una cisterna per l'acqua. Queste erano tutte cose che, secondo Brunetto, il Podestà doveva sapere. E quindi resta comunque aperta questa domanda. Per quale motivo il Podestà doveva sapere queste cose? C'era un aspetto pratico o era solo cultura? La base della cultura di un uomo medievale? Un uomo medio, un uomo, per carità, era un letterato brunetto latino, ovviamente. Però gli uomini medievali dovevano avere questa cultura, secondo lui. Hai delle domande, Maurizio? Ne avrei tantissime perché comunque l'argomento è molto interessante. Intanto capire quale poteva essere la diffusione di un testo come questo, se invece era specifico e mirato a una classe politica dirigente nelle città italiane? Ecco, questa è una domanda molto interessante perché effettivamente Brunetto ce lo dice a chi era mirato il il Tresor. Beh, allora, lui, Brunetto, dice che il libro si presenta come un trattato rivolto agli uomini che governano i comuni, Podestà, però vuole essere utile a tutti i signori che vorranno leggerlo e sarà di particolare interesse proprio per capire determinate cose. Lui dice, e non di meno tutti i signori, qualunque tipo di governo essi esercitino, ne potranno apprendere molti buoni insegnamenti. Questo lo dice nel libro terzo, proprio dove spiega la parte di politica. E lui, Brunetto, in più di un'occasione dice anche, per esempio, qual è la parte, la prima parte, la fine del primo libro. Qui finisce la prima parte di questo libro che espone in breve la creazione del mondo e dell'origine dei re e delle nazioni, l'istituzione dell'una e dell'altra legge e la natura delle cose celesti e terrestri e l'antichità delle vecchie storie racconta in breve la sostanza di ognuna. Perché se il maestro, ossia Brunetto, l'avesse voluta mettere più estesamente per iscritti e mostrare di ciascuna cosa il come e il perché, il libro sarebbe stato tanto grande da non finire più. Ed è questo, per rispondere alla tua domanda, il segreto del successo del Tresor. Perché il Tresor ha avuto un successo immediato, incredibile. Anzi, sembra che praticamente da quando Brunetto lo ha scritto, lo ha pubblicato, subito si è stato tradotto. E questa è la dimostrazione del suo successo. È stato tradotto subito in tante lingue diverse, in italiano in particolare. Brunetto sceglie di scriverlo in lingua d'oil perché lui dice che è la lingua più parlata, è la parlata più dilettevole, più comune tra tutte le lingue. E sembra che abbia avuto appunto un successo incredibile perché ne sono state trovate più di 80 copie, 80 esemplari. Alcuni mutili, altri sono frammentari. Però ci sono tantissimi esemplari del Tresor tradotti in tante lingue diverse. E proprio la traduzione, traduzione che è avvenuta nel giro di una quarantina, una cinquantina di anni, noi abbiamo tanti esemplari del Tresor, per esempio tradotti in italiano del quattordicesimo secolo, dell'inizio del quattordicesimo secolo, ci dimostrano che ha avuto veramente tanto successo come opera letteraria. Brunetto poi, diciamo, è un personaggio particolare e fondamentale per la letteratura italiana. Consideriamo che il Tesoretto, anche questa opera scritta durante il suo esilio in Francia, il Tesoretto di fatto ci parla di Brunetto che sta tornando dall'ambasceria in Spagna, lui era andato a chiedere l'aiuto, diciamo il sostegno ai Guelfi. A un certo punto Brunetto si perde, inizia a fare un percorso sinerpico in questo percorso e inizia a vedere la rappresentazione della natura, la personificazione della natura, delle virtù, dei vizi, in maniera un po' simile a quella che è Dante, che si perde in questa selva oscura nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita, no? Anzi, molti ritengono che il Tesoretto sia la base della Divina Commedia e quindi Brunetto è stato un personaggio fondamentale e la sua opera Il Tesoro ha avuto una diffusione incredibile. Probabilmente questa è la grande differenza rispetto a tante altre opere enciclopediche che erano molto più ampie, però non hanno avuto diffusione, anche in traduzione non si sono diffuse perché erano troppo ampie. Questo testo invece era un testo breve, era uno strumento, uno strumento utile, poteva essere letto, era fruibile da tutti, così come lo è oggi, lo era anche all'epoca e quindi è stato, ha avuto un'incredibile diffusione nella seconda metà del 200 e in particolare nella prima metà del 300. Questo per rispondere. Adesso allora speriamo che anche il tuo abbia la stessa diffusione nel... Ma speriamo, guarda ho trovato il dettaglio, da quello che sembra sono stati trovati 61, ben 61 esemplari completi del Tesoro, 11 incompleti e 13 frammentari. Sono tanti. Eh sì, sono tanti, sono tanti. Guarda, tra l'altro ce n'è uno molto bello, in realtà ce ne sono due, uno però è frammentario, è stato rovinato purtroppo con l'incendio di... anzi è proprio andato perduto con l'incendio della biblioteca di Torino. Ecco, nelle ultime pagine del libro che ho pubblicato ci sono a piena pagina, quattro figure e due di queste figure, poi ci sono gli ingrandimenti, non so se si veda molto. Questo per esempio, questa è la raffigurazione del leone. Qui c'è un personaggio maschile, un pellegrino, sembra essere un pellegrino. Qua c'è un leone che mangia, probabilmente in realtà, qui è il leone che si tira via dalla bocca il cibo, perché ci dice che nella sua natura, dopo un po' la bocca del leone inizia a puzzare di marcio e quindi si toglie dalla bocca il cibo. Ovviamente ci sarebbe tutto il messaggio allegorico, che un brunetto latino mette, secondo il quale parlando male, dicendo male e facendo opere malvagie, basterebbe toglierle, pulirsi e uno si sentirebbe rinnovato tramite ovviamente il Cristo. Questo messaggio allegorico brunetto non lo riporta, però nella miniatura è riportato il leone che appunto si toglie dalla bocca questa. Tra l'altro queste miniature sono state fatte, si dice, ad Acri, da un certo maître desospitalie, quindi giusto per farti capire la diffusione dell'opera di Brunetto. Queste qua sono della scuola di Acri, che aveva forti influssi parigini, aveva stretti legami con Parigi. Questo tresor, che è il manoscritto L218, conservato appunto alla Biblioteca Nazionale di Torino, è stato fatto ad Acri. È stato realizzato alla fine del XIII secolo e poi ha avuto una storia particolare, è andato in dono a diversi signori e poi è finito alla Biblioteca di Torino. E a Torino ce n'era anche un altro che purtroppo non presenta più miniature, perché è stato danneggiato pesantemente dall'incendio avvenuto alla Biblioteca. Bene, senti, io direi che abbiamo creato curiosità intorno a questo libro. Speriamo. Quindi, ripetiamo il titolo così possono correre ad acquistarlo. È Il bestiario del tresor di Brunetto Latini, di Davide Chiolero, che abbiamo avuto il grande piacere di avere con noi, pubblicato da pochissimo dall'edizione Il Cerchio. Io vi invito ad acquistarlo perché è davvero particolare come pubblicazione. Io intanto ricordo a tutti i nostri utenti di continuare a seguirci sul sito che è www.italiamedievale.org, dove troverete tutte le videopresentazioni che abbiamo realizzato fino ad oggi. E ringrazio tantissimo Davide per aver accettato il nostro invito. Grazie. Grazie a te Maurizio. Avrei voluto dire tante più cose perché ci sarebbe veramente da dire tantissimo. Ovviamente io sono disponibile sia per te, sia per chiunque volesse contattarmi, può trovare la mia mail abbastanza facilmente su Accademia Edu e mi rendo disponibile per chiunque avesse domande relativamente al mio libro o al tresor, mi farebbe molto piacere e poter rispondere. Grazie mille. Che l'allegrenza del saldato amore, sa c'è gente chiara, l'illucente e chiara, che non si si senta farà, a dar benedizione al suo grande allore.